È meglio lavorare con un gruppo di persone con cui hai un affiatamento, con cui ti conosci, con cui piano piano superi le barriere della diplomazia, conosci i pregi e i difetti, sai cosa che devi dire e cosa non che devi dire. Cioè noi, è vero che abbiamo una troupe, adesso sto parlando della troupe, gli attori un pochino diversi, abbiamo una troupe che è fatta di famiglia, nel senso è fatta di persone che conosciamo bene, con cui abbiamo andato tanti anni, alcuni li conosciamo da prima, alcune persone addirittura hanno intrapreso il mestiere insieme a noi, non l'avrebbero fatto se non fosse per lavorare con noi, invece alcuni li abbiamo presi da fuori, però poi sono diventati parte del nostro gruppo. Io credo che c'è un'idea che questa cosa sia una cosa che magari un po' lo è, anche un po' hippie fricchettona di senso della comune, però poi in realtà è una cosa cinica, perché noi pensiamo che questa, spesso vediamo in tanti i nostri colleghi, questa sete e questa fame di migliorare continuamente i propri collaboratori e di avere il direttore della fotografia più bravo, lo scenarie più bravo, qui in questo caso questo film è dedicato ai costumi, ci vuole una grande costumista, noi pensiamo che dietro c'è un'illusione anche un pochino ingenua di pensare che uno possa inseguire il bravo e pensiamo che a volte questa bravura tecnica sia sopravvalutata, perché poi come fai a giudicare se una luce è messa bene, se una maglietta è messa bene, non è come un calcolo matematico, è tutto opinabile e quindi noi pensiamo in realtà di essere più cinici e più furbi nel lavorare sempre con lo stesso gruppo, non più solo, più familiari. C'è un'intervista famosa in cui viene chiesto a Spielberg perché lavora spesso con Tom Hanks e quindi in questo caso passiamo agli attori e Spielberg risponde a questa intervista che io trovo geniale per tanti motivi, sia per questa cosa di parlare dell'importanza di lavorare in gruppo, ma sia anche in questa malattia italiana, culturale negli ultimi tempi che ci sentiamo talmente in colpa di essere un paese che culturalmente lavora anche con le amicizie, che è diventato il male, se uno fa lavorare un suo amico è il male. Invece Spielberg in questa intervista gli chiedono perché lavori sempre con Tom Hanks, lui fa semplice perché è un mio amico, dice a volte sai può essere che sei di ruoli che do a Tom, non è l'attore più adatto al mondo, però vuoi mettere quanto ci capiamo, quanto tempo guadagniamo, quanto poco dobbiamo parlare, quanto arriviamo subito al dunque, quindi a volte conviene, dice Spielberg in questa intervista, flettere la somiglianza fisica per esempio che cerchi di un attore e favorire l'amicizia, il rapporto, l'affiatamento e la tranquillità con cui Spielberg risponde così mi ha ispirato in qualche modo, mi ha fatto pensare che noi in Italia ci vergogniamo a dire che lavoriamo con uno perché è un amico, invece è un pregio perché non è che quando tu lavori con uno stai facendo una gara d'appalto, stai creando un gruppo che ti conviene e il vero datore di lavoro onesto lavora con la persona che gli conviene, non con la persona che non conosce come non conoscersi fosse un valore, però questo vale più per la troupe, per gli attori anche nonostante l'aneddoto di Spielberg è un pochino diverso, salta più all'occhio che noi lavoriamo spesso con gli stessi attori, però poi in realtà no, perché mentre la nostra troupe è sempre veramente la stessa, in ogni film c'è un attore nuovo, perché gli attori per quanto è meglio lavorare con gli amici, è meglio lavorare in affiatamento, è meglio lavorare con chi ci si capisce, quindi cerchiamo sempre di farlo, però poi l'attore è un mestiere strano perché è legato al tuo volto, è legato alla tua impostazione della voce, è legato anche alla tua altezza a volte, adesso noi stiamo facendo i film di diabolic, e diabolic è uno che si maschera da altre persone, si mette delle maschere, e quindi tu quando scegli un attore che deve interpretare un ruolo da cui diabolic si maschererà, anche la corporatura diventa un elemento di scelta, non c'è niente di male, a volte fa male un attore questa cosa, ma io l'attore deve imparare a capirlo, perché se tu hai chi fa diabolic alto un metro e tanto, probabilmente chi si mette una maschera e si trasforma in diabolic non può essere alto un metro e sessanta, perché anche se è il più bravo che c'è, e qui pure chiudo con un altro esempio mio tipico, io dico sempre che se tu fai un film su una ragazza anoressica e si presenta ai tuoi provini, un esempio estremo, una ragazza molto magra che non sa recitare è Robert De Niro, tu scegli la ragazza molto magra che non sa recitare, non puoi prendere Robert De Niro perché non può fare una ragazza anoressica, non so se si capisce quello che voglio dire, però è importante capire questa cosa, perché nel mestiere di attore c'è questa cosa qui.